campione d'italia il montesilvano conquista il suo storico terzo tricolore e lo fa in modo assolutamente tanto splendido quanto impensabile presto detto aveva tutto contro falconare al gran completo ancora tati pur se non in condizione nona dopo la squalifica pubblico di casa pronto a festeggiare biancazzurre di nuovo senza manieri ma anche prive della fuoriclasse amparo entrambe per infortunio non solo montesilvanesi reduci dal k.o. interno col jolly sciupato in abruzzo non basta il match inizia in impervio invalicabile salita 1 2 peraltro di altissimo pregio del falconara che prima con la solita raffaella pato dal maz poi col fenomeno tati da centrocampo una perla va in doppio vantaggio gara segnata e montesilvano vittima sacrificale così pare ma così non sarà con salo azzecca tutto le sue ragazze crescono con gradualità e convinzione il falconara perde smalto incomprensibilmente accusa poi la fatica a forze di gara 2 molto più di quanto non succeda un montesilvano che al contrario estrae le unghie da tigre invincibile chiude tutti i varchi a tal punto che la sestaria avrà vita tranquilla ma fino all'intervallo manca la gioia del gol che pure viene spesso sfiorato e che arriverà nella ripresa in poco più di tre minuti sarà la vecchia generosissima guardia a dettare tempi azioni e marcature non solo la straordinaria prestazione di sacrificio e di perfezione tattica di bruna ma anche le reti del duo intramontabile guidotti d'incecco con in mezzo la prodezza della sciascio di nuovo in rete contro le marchigiane il resto della truppa solo da applausi scroscianti le locali ci proveranno fino alla sirena tentando senza successo di arrivare almeno i supplementari cosa che non avverrà perché la coppa della felicità aspetterà braccia aperte un'altra squadra il monte silvano di non in 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 Grazie a tutti